Buongiorno a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti nel mio canale. Ieri, venerdì 5 agosto, si sono affrontate le prime partite di Coppa Italia, il primo turno. Cagliari-Perugia 3-2, accede il Cagliari, Udinese-Feral-Pisalò 2-1. Clamorosamente Cittadella vince 3-2 con il Lecce e accede alla fase successiva. La Sampdoria vince di misura sulla Regina grazie a un calcio di rigore di Sabiri. Oggi tocca a Pisa-Brescia alle 17.45, Spezia-Como alle 18, Empoli-Spal alle 21 e Torino-Palermo alle 21.15. Queste le partite di oggi. Domani 7 agosto invece Venezia-Ascoli, Verona-Bari, Salernitana-Parma, Monza-Frosinone. Chiude lunedì l'ultimo turno Genoa-Benevento, Monza-Sassuolo, Cremonese-Ternana e Bologna-Cosenza. Questa è la fase del primo turno. Poi si accederà al secondo turno. Chi passa nel secondo turno affronta ai ottavi le squadre della Serie A le più importanti. Juve, Inter, Milan, eccetera. Ragazzi, ci vediamo più tardi per nuove news. Un abbraccio da Gerry e sempre, forza, vecchio cuore, rosso-nero.